Buongiorno, buona domenica e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. La variante Delta si sta diffondendo in Italia, lo sappiamo, nelle prossime settimane diventerà dominante e per questo è importante mantenere alta l'attenzione e proseguire e investire, come ha detto il Ministro Speranza, sul sequenziamento e sul tracciamento del virus e in particolare di questa variante, ma è importante per gli esperti soprattutto completare il ciclo vaccinale e quindi fare entrambe le dosi perché solo dopo due dosi si è protetti nei confronti appunto di questa variante Delta. Dunque bisogna accelerare soprattutto sui richiami, questo è uno degli argomenti in primo piano sui giornali di oggi, sui quali si parla anche delle questioni legate al lavoro perché alla fine del mese scade il blocco dei licenziamenti, ieri i sindacati sono scesi in piazza in una manifestazione unitaria per chiedere appunto che ci sia una proroga. Il Ministro del Lavoro Orlando rassicura, sottolineando che saranno comunque presi nel frattempo dei provvedimenti. Poi si parla naturalmente della politica con le questioni dei 5 Stelle, Conte domani probabilmente in una conferenza stampa dovrebbe esporre le sue decisioni e poi l'Italia che ha battuto l'Austria agli europei. Allora partiamo dal Corriere della Sera, vedete il titolo principale, variante Delta sulle vacanze, i virologi che dicono partire dopo la seconda dose risalgono i contagi nel mondo, sono oltre intanto 2,7 milioni gli over 60 che ancora sono senza un'iniezione e speranza, il Ministro che dice appunto investiamo sul tracciamento. Il dossier, la corsa ai vaccini con i ritardi, protetto, un italiano su 3, più della metà degli italiani ha ricevuto la prima dose. Di spalla le questioni che riguardano la politica con lo scontro nel Movimento 5 Stelle, Conte Grillo rimane il gelo ma Di Maio crede nell'intesa e le questioni, ve lo dicevo, dei licenziamenti con i sindacati in piazza? Il Governo studia nuovi interventi e poi a centropagina questa bella fotonotizia, cuore e grinta, l'Italia fa festa, la nazionale soffre ma batte l'Austria 2 a 1 ai supplementari. Vediamo l'apertura della Repubblica, eccola qui, dedicata vedete sempre al Covid, se risalgono i contagi tornano le mascherine che da domani non saranno più obbligatorie, lo ricordiamo, quindi almeno per il momento dobbiamo sottolineare all'aperto. Il Presidente dell'Istituto di Sanità Brusaferro da domani si tolgono ma bisogna accelerare sulle seconde dosi, dall'Austria dove Sidney è tornata in lockdown, all'Europa le mutazioni del Covid avanza e fa paura, pressing di Draghi per anticipare la consegna dei vaccini Pfizer. E ancora le questioni dei 5 Stelle, Grillo, Conte verso la tregua e Di Maio che dice sono certo. La stampa, eccola qui, no al conflitto, ora patto sociale, temi del lavoro in primo piano con l'intervista a Brunetta, Draghi, media sul sblocco dei licenziamenti, sindacati in piazza, non basta. E poi ieri è stata anche il giorno dei Gay Pride, la marcia degli LGBT, il corteo arcobaleno incalza il Parlamento, subito la legge contro l'omofobia. E ancora anche qui in Italia la variante Delta un caso su quattro. Il messaggero, vaccino due dosi per viaggiare, qui c'è un'intervista ciciliano del Comitato Tecnico Scientifico che sottolinea vacanze all'estero solo con l'immunizzazione completa. Il piano per fermare la variante Delta, chiudere con 250 infetti ogni 100 mila abitanti, che poi sono comunque le regole che già ben conosciamo. E ancora il tormentone Movimento 5 Stelle, ora Conte dice sì a Grillo, garante. Ancora l'esodo dei comunali senza nulla ossa, sindaci in allarme, la mobilità sarà consentita in assenza di autorizzazione, Lanci che dice servizi a rischio. Per quanto riguarda le questioni del lavoro, licenziamenti, ipotesi, blocco per le aziende in crisi. Apertura del sole 24 ore dedicata al fisco con scadenze da allarme rosso, perché fino al 30 di giugno in agenda ci sono 263 addempimenti. L'89% riguardano versamenti, proroga per le partite IVA con pagelle fiscali, cartelle da pagare a fine settembre. Poi licenziamenti, il confronto sulla proroga del blocco. All'Italia, alla seconda rata dell'Imu per i proprietari che hanno il blocco degli sfratti. Ancora da ricovere 10 miliardi all'auto per rilanciare volumi e filiera. E poi la lotta al Covid, variante Delta in Australia torna in lockdown, picco di contagi in Gran Bretagna. Dunque questa variante che corre è piuttosto avanti al momento all'estero. Il Fatto Quotidiano europeo, il girone B, l'ha vinto la variante. Tutte le partite cluster di contagi Delta. Focolai per i match negli stati di Danimarca e di Russia, dove ieri c'è stato il record di decessi. E Crisanti, c'è un'intervista oggi sul Fatto Quotidiano, che dice che la finale a Wembley è roba da matti. Vediamo anche l'apertura del domani. Eccolo qui, ultima chiamata al governo per evitare una crisi sociale. I tre grandi sindacati tornano in piazza per chiedere all'esecutivo una proroga del blocco dei licenziamenti che scade il 30 giugno. Forse con l'eccezione del tessile, i Sicobas ricordano il loro sindacalista ucciso. Diamo ancora un'occhiata anche al giornale. Eccolo qui, nel partito unico tutelata ogni identità, un intervento di Berlusconi, nessuna fusione fredda, noi portiamo i valori del Pepe e Milano spunta l'ipotesi di Farinet sindaco. Bene, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità e riprendiamo subito dopo con la rassegna stampa. Bentornati in studio, proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo all'apertura di Libero. In ginocchio resta solo il PD, la nazionale elimina Letta. Ignorati i richiami idem, gli azzurri decidono di non partecipare alla protesta antirazzista. La sinistra rosica, Boldrini e Saviano attacca i nostri calciatori che vincono e vanno ai quarti. Il manifesto Gaia Italia, da Milano a Roma, onda arcobaleno nelle piazze per i diritti LGBT e il DDL ZAN, il promotore basta trattative con la Lega che si ispira ad Orban. Letta è d'accordo, andiamo al voto, i numeri ci sono, ognuno si assumerà le sue responsabilità. E ancora il tempo, eccolo qui. L'ultima grana lasciata dal vecchio governo in vendita alle mascherine di Arcuri. Figliolo cerca di piazzare 218 milioni di dispositivi farlocchi comprati dall'ex commissario. Vediamo anche l'apertura della verità. I sogni proibiti del Conte decaduto. L'ex premier in rotta col padre padrone dei grillini potrebbe ripetere lo stesso errore di mister Bocconi, convinto dai suoi consiglieri di avere consensi stellari, ma se si fa un partito andrà incontro ad un crollo pari solo alla sua assoluta presunzione. Vediamo anche l'apertura dell'avvenire. Eccola qui. Ultimi ma non per noi. Il Papa ringrazia la Caritas per i 50 anni di impegno a favore dei più poveri e sprona all'impegno. Ancora vediamo anche l'apertura del mattino. Sanità e gli investimenti al sud. Il colloquio con il ministro Speranza che illustra il recovery. Potenzieremo l'assistenza territoriale, assunzione di medici e infermieri, nuovi macchinari, poliamburatori e ospedali di comunità. Andiamo alle pagine interne dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera con le questioni che riguardano il Covid. L'allarme degli scienziati sulle vacanze dicono fate i richiami prima di partire. È importante che si parta per le vacanze con la seconda dose di vaccino effettuata. Noi dobbiamo convincere gli italiani a non rinviare il vaccino per andare in ferie. È tempo di agire. Dobbiamo vaccinare tutti e metterci in sicurezza. Questo è il messaggio del professore Francesco Vaia, il direttore dello Spallanzani di Roma. Il suo è quasi un appello. La preoccupazione degli scienziati è evidente. si chiama variante delta del Covid. E dunque appunto questo è l'appello degli scienziati. Vi segnalo un'intervista a Richeldi del Comitato Tecnico Scientifico oggi sul Corriere della Sera che però sottolinea troppi anziani ancora vulnerabili. Per convincerli vanno cercati porta a porta. Sono appunto 2,7 milioni gli over 60 che ancora non si sono prenotati per il vaccino. Dice bisogna prepararsi ad un aumento dei casi dopo l'estate. Poi sottolinea che l'assistenza domiciliare non è stata potenziata a sufficienza e sarà invece la chiave per proteggere i nostri ospedali. Ancora dice consiglierei di non viaggiare e trascorrere le vacanze vicino a casa per prudenza. E poi dice ricordo che in caso di assembramenti resta l'obbligo della mascherina e ancora in caso di focolai di una variante più contagiosa la zona rossa potrebbe essere l'unica opzione e naturalmente al momento è un'ipotesi. Andiamo restando un attimo sulle questioni che riguardano il Covid sul Repubblica perché naturalmente c'è la questione dei vaccini con l'Italia che adesso vuole correre e si tratta per anticipare le consegne, l'allarme per la variante Delta, l'impennata dei contagi in Gran Bretagna e il rischio di nuove zone rosse preoccupano il governo, la tela di Draghi con Merkel, l'obiettivo è quello di avere più dosi Pfizer in estate e raggiungere l'immunità di Gregg prima dell'autunno. C'è uno studio sulla Repubblica, su Lancet, che dice più anticorpi con l'eterologa sulla rivista medica inglese, i risultati di un test dell'Università di Madrid che sottolinea che il mix aumenta la risposta immunitaria. Si è parlato molto di questa questione da quando appunto AstraZeneca, Johnson & Johnson sono stati limitati agli over 60. Intervista del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, sulla Repubblica di ieri che appunto avverte via le mascherine ma se i contagi risalgono saremo costretti a rimetterle. I casi di infezione scendono ma quelli causati dalle varianti aumentano. Solo con la seconda dose appunto saremo più sicuri e poi dice i dati attuali ci dicono che possiamo scoprire il volto all'aperto ma se necessario appunto dice possiamo tornare indietro. Sulle questioni dei vaccini dice i dati inglesi mostrano che la vaccinazione con una dose protegge meno rispetto al ciclo completo. Sappiamo che la vaccinazione anche con una dose può già essere efficace per ridurre le forme cliniche gravi ma solo il ciclo completo garantisce la maggiore sicurezza e dunque appunto l'invito è quello a proseguire sul fronte dei vaccini. Vaccini che servono sappiamo per ottenere il Green Pass ma è una vigilia ad ostacoli ci racconta la Repubblica perché i milioni rischiano di restare senza da giovedì al via la card verde europea ma i gueriti dal Covid, i vaccinati all'estero e i bimbi tra due e sei anni avranno delle difficoltà ad ottenerla. Dunque non sarà tutto così semplice, meglio appunto muoversi allora per tempo. Ancora dietro fronte delta così la variante richiude il mondo e in questa pagina, pagina 5 la Repubblica fa un po' il quadro della situazione nei paesi del mondo dove la mutazione del virus corre scoperta per la prima volta in India, si sta diffondendo da un continente all'alto costingendo diversi paesi a ripristinare le restrizioni e l'agognato ritorno alla normalità continua a slittare in alcuni paesi. Diamo un'occhiata anche alla stampa da cui appunto vi volevo segnalare eccolo qui il virus che muta, che cosa fare? Ci sono altre due interviste interessanti. Una Guido Rasi, l'ex direttore dell'M Consulente di Figliolo che dice arriviamo tardi ma il tracciamento resta indispensabile e anche lui sottolinea che a rischiare di più sono i non vaccinati e i giovani e Walter Ricciardi, Consulente del Ministero della Salute che dice sì è lockdown locali e lui sottolinea che invece all'aperto è meglio comunque tenere la mascherina andremo verso un aumento di contagi, dobbiamo fare il nostro dovere con coscienza e rispetto ci esporremo a colpi di coda del virus. Cerchiamo di completare un attimo la questione che riguarda il Covid e volevo segnalarvi anche l'intervista che trovate a Crisanti sul Fatto Quotidiano che parla appunto delle trasferte del calcio, trasferte rischiosa Wembley 60.000 per la finalissima, una roba da matti dice appunto Crisanti in questa intervista che appunto dice la variante Delta una trasmissione elevata, gli assembramenti aumentano i rischi allo stadio la gente è incoraggiata a urlare, a fare il tifo, a supportare e questo favorisce l'emissione del virus e il contagio è ovvio dice appunto Crisanti in questa intervista che trovate sul Fatto Quotidiano Fatto Quotidiano che parla appunto della variante allo stadio cluster nel girone B, allarme agli europei focolai a Copenhagen e a San Pietroburgo per le partite disputate in stadio affollati il 16 e il 17 di giugno in Russia si sono giocati sei match e si giocherà il 2 di luglio siamo sul Fatto Quotidiano quindi diamo un'occhiata anche alle questioni che riguardano i 5 Stelle poche ore per fare pace, pressing sui legali di Grillo Conte però non si fida, l'ex premier parla domani il consiglio dei big non chiudere, serve altro tempo per convincere il garante poi la base, c'è la rivolta su Facebook caro Beppe ritrova la lucidità così il Movimento 5 Stelle rischia di scomparire e sui rischi del Movimento 5 Stelle che corre c'è l'intervista a Domenico De Masi il sociologo che dice si devono parlare altrimenti regalano il paese alla destra tutte e due hanno sbagliato, uno appare e scompare l'altro lavora troppo da solo e dunque appunto c'è questa esortazione a trovare un compromesso Il Fatto Quotidiano ci parla oggi anche delle questioni legate al lavoro con i sindacati che avvisano Draghi non tradisca i lavoratori questo per quanto riguarda la questione del blocco dei licenziamenti che scade a fine mese la giornata di manifestazione di Cigiale Cisle Will che bocciano il decreto con la proroga selettiva stop fino a ottobre o sarà bomba sociale e Orlando che invece assicura interverremo ma come è tutto da decidere c'è un'intervista a Pierpaolo Bombardieri della Will oggi sul Fatto Quotidiano che dice blocco settoriale insensato ci ascoltino limitato al testile salverà chi fa le camice ma non chi fa i bottoni non minaccio mobilitazioni ci muoveremo se l'esecutivo dice Bombardieri andrà avanti e dunque appunto fronte davvero molto molto caldo torniamo un attimo sulla stampa eccola qui le questioni che appunto riguardano il lavoro il governo vieta 250.000 licenziamenti ma i sindacati incalzano non basta la questione che ritorna e poi vi volevo segnalare dalla stampa questa intervista a Renato Brunetta ora le riforme o niente fondi europei il boom è partito serve un patto sociale il conflitto non ha senso torniamo al 1993 dice appunto Brunetta in questa intervista serve un approccio capace di tenere insieme crescita, giustizia e lotta alla disoccupazione siamo in una fase di rimbalzo anche se non abbiamo ancora speso un euro del recovery c'è fiducia rapidamente il gay pride che si è svolto ieri nelle piazze italiane il popolo arcobaleno incalza il Parlamento subito la legge ZAN e vi segnalo su questo l'intervista ad Emma Bonino che troviamo questa mattina sulla stampa la società è pronta, la politica ancora no l'Europa fermi Orban è tutto per la rassegna stampa di oggi e adesso Paolo Sottocorona con le previsioni meteo sì buongiorno queste sono le piogge previste per la giornata di oggi soprattutto nel pomeriggio ancora la fascia alpina e prealpina con qualcosa in più sulle Alpi occidentali se no il grigio di qualche nuvola che diciamo si apre un po' passando dal centro al sud però vedete che al sud fra Calabria e Sicilia qualche nuvole in più e anche forse qualche debole pioggia la giornata di domani come situazione nuova no, diversa vede un aumento di queste precipitazioni sulla Valle d'Aosta, sul Piemonte occidentale la parte settentrionale al di là del confine la macchia gialla ci indica ma il tempo forte questo non sarà forte ma sarà moderato quindi la quantità di pioggia complessiva alla fine della giornata sarà su livelli almeno moderati poi andando verso est anche sulle zone alpine tutto diminuisce fino a sparire quasi del tutto sul Friuli Venezia Giulia al centro ancora qualche nuvola Sardegna, Sicilia, Calabria insomma ci sono delle nuvole e anche la possibilità di qualche debole pioggia vediamo la giornata di martedì che vedete è un piccolo passo cioè la zona molto perturbata si sposta leggermente verso est passa dalla Francia verso la Svizzera ma tocca un po' anche la zona di confine quindi proprio sul confine alpino qualcosa in più c'è sicuramente qualcosa in più nel senso anche forte poi c'è la fascia, questa blu che indica precipitazioni moderate significa tra i 5 e 10 mm per intenderci nelle 24 ore più deboli ma presenti quelle che prendono la parte centrale e orientale delle Alpi e poi sulle altre zone vedete compare il grigio di qualche nuvola qualche ombra verde proprio che potrebbe dare qualche debolissima pioggia ma è un tempo sostanzialmente rispetto alla situazione diciamo alpina decisamente più stabile vediamo le minime di questa mattina scese su valori alti ma non più così tanto anche al sud peninsulare ma in Sicilia i valori sono ancora più elevati quindi ancora molto alti chiudiamo con lo stato dei mari che continuano a essere prevalentemente tranquilli le zone in cui potrebbero essere poco mossi o localmente mossi sono quelle vedete fra Corsica e Sardegna in uscita dalle bocche di Bonifacio sul canale di Sardegna in parte un po' lontano sullo Ionio ma insomma è una situazione questa decisamente estiva se volete ci vediamo alle 7.55 adesso pubblicità e poi la prima edizione del nostro telegiornale a piuttarte a Pittarte Grazie a tutti.